Paola Frassinetti, prego. Presidente, onorevoli colleghi, Vice Ministro, già i miei colleghi di Fratelli d'Italia hanno messo l'accento sulle criticità di questo decreto. Le modifiche, secondo me, peggiorative riguardano l'ONG, le multe ridotte all'ONG, la protezione umanitaria reintrodotta, le conversioni dei permessi di lavoro, un sistema d'accoglienza che viene allargato in maniera, secondo me, del tutto astratta, senza effettuare le verifiche che andavano effettuate. Venendo al mio ordine del giorno, parla dei ricercatori, di quei ricercatori venuti in Italia con un mandato temporale per poter effettuare la loro ricerca. Questi ricercatori, una volta finito il loro compito, possono rimanere un anno in Italia per cercare un'altra occupazione senza avere la disponibilità di un reddito minimo annuo che invece era prevista precedentemente. Credo che sia alquanto sconveniente lasciare delle persone in cerca di occupazione, parcheggiate in Italia, naturalmente, che dovranno essere mantenute quando c'è la fuga dei cervelli dei ricercatori italiani che invece hanno sicuramente molte difficoltà. E quindi con questo ordine del giorno si chiede appunto di rimettere questo requisito importante di buonsenso che c'era prima e quindi non lasciare questi ricercatori così in balia della sorte per oltre un anno se non trovano un lavoro senza un reddito minimo. Ecco, questo ordine del giorno accende una problematica un po' particolare ma esaustiva di tutta la questione, di tutto il provvedimento. Poi, in conclusione, una riflessione va fatta. Va fatta la riflessione delle ricchezze che ci sono nel suolo e nel sottosuolo del continente africano. Ricchezze che appartengono ormai a un potere economico di lobby di molti nazionali che insieme ai governi corrotti hanno desertificato questo continente. La crisi non è solo nelle guerre ma è anche nelle ragioni economiche e anche in queste multinazionali che impongono delle monoculture. Mi riferisco alle culture di caffè, di ananas oppure alle estrazioni intensive nel sottosuolo. E l'ONU cosa fa? L'ONU non fa nulla perché quando arrivano queste risoluzioni, naturalmente sotto leggi da di solito di Francia e d'Inghilterra, per rinvestire soldi nell'occupazione, in Africa vengono annullate. Quando si dice aiutiamoli a casa loro non è uno slogan demagogico. Bisogna sapere anche le vere ragioni di questo fenomeno perché se non si studiano queste vere ragioni, se non si disciplina il rapporto che esiste tra la potenzialità occupazionale che esiste in Africa e invece il lavoro di queste multinazionali che impediscono di creare la possibilità nei loro paesi di origine. Questa è una riflessione che io faccio perché è inutile nascondersi dietro un dito. Fratelli d'Italia vuole in conclusione battersi contro un'accoglienza irresponsabile, un'accoglienza di un'Europa che spesso e volentieri lascia solo l'Italia all'onere di dover risolvere questo problema. Un'accoglienza che vede negli scafisti molte volte purtroppo una tratta di esseri umani che è a dir poco vergognosa. Ma queste denunce che sono puntuali e reiterate nel tempo non devono evitare di cercare la risoluzione del problema e le vere cause di questa tragedia. Grazie. Ho chiesto di intervenire il deputato Simone Billi.